Le strade siciliane continuano a maccharsi di sangue, si aggrava purtroppo il bilancio dei decessi negli incidenti stradali. Gli ultimi si sono verificati nella notte in territorio di Piedimonte e Tneo, a seguito di un violento scontro tra due auto, come dimostrano le foto pubblicate sul gruppo Facebook Incidenti Stradali. A perdere la vita, mamma e figlio di 40 e 20 anni piedimontesi, che a bordo di una Fiat 600, stavano percorrendo la strada statale 120 all'altezza di Contrada San Gerardo. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata con un'altra auto in transito, una Golf. Dopo il violento impatto, la 600 avrebbe fatto tessa coda e avrebbe poi preso fuoco. A guidare la piccola utilitaria, il ventenne, morto sul colpo, la madre invece, apparsa sin da subito in gravi condizioni, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. Rimasto ferito il conducente della Golf, un 24enne, anche lui di Piedimonte e Tneo. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco, per verificare la dinamica dell'incidente e svolgere le operazioni di bonifica del tratto interessato.